mi serve subito urgentemente la ricarica da 10 e me la devi fare comunque ragazzi io sono convinto che dobbiamo necessariamente risolvere questo dilemma quanto spende di telefono l'ello al mese voi ogni volta che vengo vuoi la ricarica e che cosa ti devi fare se hai una tariffa mensile da 10 euro mi serve perché ti voglio rompere a te puntini puntini ma lo puoi fare lo stesso perché tanto è pagato già non è quello come dici tu non è come dici tu a me mi serve un bordello di cose forse o te lo fai capire o tu dici a ti bar vecchi parliamo chiaro e tu dici a che stacchers perché altrimenti aspetta aspetta che qua la storia che stavi dicendo perché altrimenti altrimenti facevo di peggio e voglio andare alla scuola di karate che voi date voi guardate forti che potete dici oggi stai particolarmente minaccioso peggio molto peggio si capisce sembra un duello alla sergio leone il buono e il cattivo non fare non fare vedere come hanno detto la cristiana che ti senti direttore chissà che tu e non per me si ugual tu vari niente significa direttore ma io non c'entro niente direttore ma porca miseria torna ma tornerà